Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levar del sole. Dicevano tra loro, chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito di una veste bianca ed ebbero paura. Ma egli disse loro, non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocefisso, è risorto, non è qui, ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Bene, la prima cosa che vorrei lanciare a tutti, a tutti coloro che ascoltano questo video, è l'agurio, che sia veramente alleluia il Signore risorto, veramente sia un annuncio di alzarci, alzarci, l'alzarci dalle nostre fatiche, dalle nostre debolezze, dai nostri peccati, alzarci per riprendere il cammino, ma vorrei dare un'aggettivazione, usare un verbo a questo alzarci, perché il testo di Marco dice che di buon mattino Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome ha comprato gli aromi, andarono al sepolcro e si pongono delle domande. Primo, chi sposterà la pietra? Seconda domanda, cosa faremo? Queste sono domande importanti, no? Le domande che ci facciamo noi, come ce la farò? Quante volte davanti a certe sfide pastorali, a certe scelte di vita, diciamo, ce la farò o no? Ho scelto di sposarmi, ce la farò o no? Ho scelto di diventare prete, ce la farò o no? Ho scelto di andare all'università, ce la farò o no? Ho scelto di seguire un gruppo, ce la farò o no? Queste sono domande fondamentali, capite? Davanti alle quali noi ci sentiamo come Maria di Magdala e gli altri, ce la farò o no? Bene, la Pasqua è il giorno dell'alzati, ma cosa dice il testo? Arrivarono e videro, e cosa? Entrano, quindi la pietra, videro, come mai? Videro, poi dentro cosa fanno? Vedono il corpo? No, cioè loro si aspettavano di vedere il corpo di Gesù, no? Avranno detto, pensate la scena, no? Arrivano lì e dice, come faremo a togliere quella pietra? E videro che la pietra era tolta, poi avranno detto, entriamo dentro e speravano di vedere chi? Il corpo, perché si erano andati apposta, di vedere il corpo, e cosa vedono invece? Un angelo, cioè è il giorno che Gesù, che Dio, gli fa vedere altro da quello che loro vogliono vedere. Vedete, allora la prima cosa che vi vorrei dire era, alzati e vedi oltre il tuo ombelico, alzati e vedi quello che Dio ti vuol far vedere, perché noi delle volte vogliamo vedere quello che decidiamo di vedere, o vogliamo vedere l'ovvietà. È ovvio che se tu ricevi l'ordinazione presbiterale, tu ti fai delle domande, no? Speriamo, o fai un'attività pastorale, giusto? È chiaro che, è come se io sto facendo quel video, dico speriamo che mi vedono. Ma sapete cosa mi meraviglia di più? Non pensare che mi vedono, ma quando qualcuno che io non immagino che mi veda dice, sai ti ho visto, perché quello è un imprevisto, è come le donne, no? Delle volte Dio ci fa vedere dove noi pensiamo di non vedere. La Pasqua è questo, sconvolge il nostro vedere. Noi vediamo fino a un certo punto, lui nel giorno di Pasqua ci fa vedere oltre. Questa è la risurrezione, questa è la vita eterna, cioè vedere con gli occhi di Dio, con gli occhi della Pasqua, la vita quotidiana. Questo cosa produce? Intanto non produce che immediatamente, vedendo come Dio, non sempre vediamo le cose che vogliamo noi, no? Infatti non lo vedono il corpo. Voi cercate Gesù, ma dove lo cercate? Lui è altro, è un altro posto. Ecco, la seconda grande cosa della Pasqua è che Dio va sempre oltre. Anche questa è una cosa importante che dobbiamo imparare dalla Pasqua, no? Vedere con gli occhi di Dio, vedere quello che lui ci vuol far vedere, non quello che noi vogliamo vedere, no? Pensate cosa vuol dire questo, eh? Noi delle volte guardiamo le persone con l'ovvietà ideologica, no? Tanto lui fa sempre così. E vedilo un po' con gli occhi di Dio, guarda l'uomo, la donna, la tua consorella, il tuo confratello, con gli occhi di Dio, forse vedrai qualcosa che tu non vedi perché sei ovvio. Ma poi Gesù è sempre oltre, non è qui, non è qui, non è in queste cose che tu, in queste quattro attività che tu hai deciso che ci sia, che ci può essere la salvezza. Non so se mi spiego. Pensate cosa ha detto Gesù agli Apostoli. Vi anticiperò in Galilea, cioè egli è sempre oltre i nostri ragionamenti, egli è sempre oltre le nostre... Ecco, chi è cristiano, deve alzare il tono. Vedete, una delle cose che facciamo più fatica, ma anche da... è far vedere oltre i soliti programmi, no? Pensate, non è così. Eh, ma ho fatto questo, questo, questo. I sognatori nella Chiesa sono i migliori, ma non perché sognano secondo il loro ragionamento, ma perché sognano con gli occhi di Dio e guardano oltre quello che... e alcune volte prendono delle portate in faccia, no? Perché uno dice, guarda, vorrei... e dice, ma cosa... guarda com'è la realtà, ma tu la devi guardare la realtà, ma se la guardi con gli occhi di Dio, egli ti fa dire oltre. E allora in questo senso vai, usciti, fuggirono via dal sepolcro, cioè è il terzo grande annuncio della Pasqua. Fuggite dai vostri sepolcri, fuggiamo dalle nostre disperazioni. Non sono questi due volte i nostri gruppi, dalle nostre comunità, ci andiamo e usciamo depressi. Fuggite dai gruppi depressivi, dai gruppi dove la gente continua a parlare male gli uni degli altri. Eh, non riusciremo mai, eh, è Pasqua, uscite dal sepolcro. Andate fuori, forse troverete nell'uscire la speranza che non trovate se rimarrete dentro i nostri vuoti e continui e alcune volte disperati ragionamenti. Ecco, il mio augurio pasquale è, primo, vediamo con gli occhi di Dio, guardiamo. Secondo, impariamo a vedere oltre, impariamo a guardare che il corpo morto di Cristo non c'è. Non ho visto il corpo di Cristo. Noi guardiamo i corpi morti di Gesù, no? Il cristianesimo è morto. Ma come facciamo a dire che oggi il cristianesimo è morto? Eh, non è qui, è oltre. Terzo, usciamo dai nostri ghetti, dai nostri circoli chiusi, no? Sepolcrali, dove ci facciamo la fossa e ci mettiamo dentro e impariamo ad andare oltre. Il mondo ci attende per dire alleluia, il Signore è veramente vivo ed è risorto e ci aspetta in Galilea, la Galilea delle Genti. Buona Pasqua a tutti.